Non so chi sono, perché sono, ma tutti i miei sforzi sono inutili. È come sbattere la testa contro una porta chiusa. Ho bisogno del dottore. Mi puoi aiutare, Kim? Resterò con te fino a quando non riuscirai ad aprire quella porta. Grazie. Andiamo. Che disastro terribile. Ascioga! Guarda! Brazio di sangue! Grazie. Grazie.